Grottesco fenomeno Che grottesco fenomeno, servo, in questo mondo di se stesso servo! L'ignoto spaventa al punto tale da non distinguere il bene dal male. Chi fugge per paura è più lesto, ma il suo viaggio è più mesto, però che, del timore prigioniero, rifugge anche il rischio non vero. Che spreco di gioia è l'insipienza! Perché non riparare con urgenza? Basta aprirsi curiosi alla scienza!